Dopo vent'anni di studi, ricerche e restauri il gigante di pietra dell'antica Acragas si è rialzato. Il Telamone, una delle colossali statue antropomorfe che sostenevano l'architrave del Tempio di Zeus Olimpio, l'Olimpieion, simbolo della Valle dei Templi, è stato riportato in posizione eretta. Stamattina la cerimonia di presentazione del Telamone ricostruito con il presidente della regione siciliana Renato Schifani, l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, il direttore del Parco archeologico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta e le autorità. La statua, alta quasi 8 metri, è sostenuta da una struttura in acciaio di 12 metri alla quale sono ancorate delle mensole dove sono collocati i singoli pezzi del monumento riassemblato. L'intero progetto di musealizzazione dell'area dell'Olimpieion include la prossima ricostruzione a terra di una parte della trabeazione e della cornice del Tempio così da proteggere i reperti.